Sì, grazie. Prendiamo la linea in diretta dall'esterno dello stadio adriatico Giovanni Cornacchia. Saluto e ringrazio il direttore sportivo del Pescara, Luca Matteassi, che avevamo ascoltato dopo l'amichevole di Roccaraso con il Napoli. Questa sera parliamo di campionato. Direttore molto più importante. Insomma, è arrivata questa vittoria. Sofferta, ma la vittoria è arrivata, meritata. Però, insomma, questo gol di Zappella al 91esimo ha rappresentato davvero una liberazione per i tifosi. Sì, buonasera a tutti. Sì, è una liberazione. Abbiamo creato anche molte palle-gole. Il secondo tempo abbiamo deciso di aspettarli. Non ha funzionato benissimo, diciamo. Però abbiamo creato tante palle-gole. Non le abbiamo sfruttate. Poi hanno pareggiato. E come si dice nel calcio, quando sbagli tanto, poi alla fine la paghi. Però alla fine, fortunatamente, Zappella è riuscito a fare il gol del 2-1. La nota un po' stonata di questa sera, le tante occasioni mancate e il fatto che, insomma, gli attaccanti non siano riusciti ad andare in gol. È appena la prima giornata, ci mancherebbe. Però un gol di un attaccante questa sera avrebbe fatto piacere a molti. Ma è il gol dell'attaccante. L'importante è vincere le partite. Poi chi segna, segna. Sicuramente serve per la fiducia degli attaccanti, no? Quando fanno gol, però l'importante era ottenere tre punti. Tre punti importanti perché, lo dicevamo prima, direttore, era fondamentale iniziare bene questo campionato. Dicevamo prima con i colleghi da studio Andrea Costantini e Jacopo Forcella che vincere soffrendo potrebbe essere un bene perché questa sera, sin da subito, si è capito che questo è un campionato in cui ci sarà da soffrire. Ci sarà da soffrire molto, però, ripeto, soffrendo o non soffrendo dobbiamo cercare di vincere. E soprattutto cercare di fare le partite per vincere. Quindi lo stiamo facendo. È andata bene così soffrendo oggi e speriamo la prossima volta di non soffrire così tanto. Stadio Adriatico, riaperto ai tifosi. Ovviamente giornata inclemente con tanta pioggia nel pomeriggio. Non c'era tantissima gente, direttore, questa sera. Ma i tifosi della Nord hanno trascinato la squadra alla vittoria. Certo, i tifosi contano molto. Poi soprattutto in piazze così come Pescara c'è stato il boato sul gol del 2-1. È stata una bella soddisfazione anche per loro. Fa sempre piacere e speriamo di vederli sempre di più allo stadio. È stato bello vedere la festa del 91esimo con i giocatori sotto la Curva Nord. Diceva Auteri ieri in conferenza stampa dobbiamo trascinare noi i tifosi, dobbiamo ricostruire noi l'ambiente qui a Pescara dopo la retrocessione. Certo, e questo lo possiamo fare solamente con il sacrificio, con il lavoro, con i tre punti per cercare di portare più persone allo stadio. Solo questo farà sì che i tifosi vengano allo stadio a sostenere questi ragazzi. Direttore, martedì chiuderà il mercato. Le faccio due domande. La prima su Galano. A questo punto resterà il giocatore a Pescara o ci potrebbe essere qualche sorpresa nelle ultimissime ore? Questo non si sa perché il mercato, lo sapete, come funziona. Potrebbe scappare qualcosa all'ultimo. Però Galano in questo momento è un giocatore del Pescara e io penso che rimanga a Pescara. Poi oggi si è allenato, ha avuto un problemino. Il mister ha preferito far giocare giustamente chi si è allenato sempre, chi meritava di giocare e vedremo insomma all'ultimi due giorni come andranno. Bussellato è un giocatore del Pescara ma non fa parte del progetto tecnico di questa stagione e dunque andrà via? Non so se andrà via o no. L'occasione per andare via ce l'ha avuta, l'ha rifiutata. Bussellato è un giocatore del Pescara però non rientra nei piani del Pescara. Se non dovesse essere ceduto che cosa accadrà? È stato chiaro il presidente, come siamo stati chiari con lui, se non sarà ceduto rimarrà fuori lista. Balzano potrebbe arrivare, un giocatore che non ha squadra, potrebbe arrivare anche dopo la chiusura del mercato? Potrebbe arrivare. È arrivato Rizzo? Ancora no ma potrebbe arrivare anche Rizzo. Per chiudere, direttore, cosa manca al Pescara? Un attaccante, un centrocampista? Perché si parla tanto dell'arrivo di un altro attaccante e anche forse di un altro centrocampista. Queste voci corrispondono a verità? Corrispondono alla verità. Dovrebbe arrivare un difensore, come abbiamo detto, due centrocampisti e motualmente un attaccante con determinate caratteristiche. Quindi altri 3-4 giocatori? Balzano l'ha detto lei, Rizzo l'ha detto lei, dovrebbe arrivare un altro centrocampista più un altro attaccante. Grazie.